Il valore nutrizionale degli alimenti è qualcosa di molto importante e è importantissimo tenerlo in considerazione anche per quanto riguarda le bevande. Stiamo avvicinandoci alla stagione calda, siamo ai primi giorni di primavera e oggi volevo proporvi una ricetta davvero salutare, dissetante e super antiossidante. La ricetta di oggi è il golden milk, una ricetta a base di curcuma, curcuma che contiene un potentissimo antiossidante ed antinfiammatorio che è la curcumina, ma attenzione bisogna tenerlo sempre attivo con una grattata di pepe vicino. Per preparare una porzione di golden milk, ovvero un bicchiere da circa 200 ml, abbiamo bisogno di 50 grammi di mandorle, quelle con ancora la guccia, un centimetro circa di curcuma fresca, un po' di cannella, poi un cucchiaino di stevia base, un cucchiaino di olio di canapa e ovviamente l'acqua per semperare 200 ml. Ho messo come prima cosa in ammollo le mie mandorle con dell'acqua semplicissima per 12 ore, l'importante è che stiano in ammollo 12 ore così si riidratano bene. Poi le ho scolate e le ho reintegrate con 200 ml di acqua pulita. Quello che andremo a fare adesso è preparare il golden milk frullando, quindi ottenendo un latte di mandorla che sarà mescolato all'estrazione della curcuma e poi aromatizzato infine. Facciamo adesso una seconda esterazione, quindi reintegriamo un po' di liquido dentro a riscarti e li reesteriamo. Ecco pronto il nostro golden milk. Grazie a tutti.